Sono Lorenzo Crocetti, vengo dal Casale Calcio, sono fiorentino e giocavo al Casale fino a poco tempo fa, poi ho preferito fare questa esperienza a Lugano dopo tanti anni passati nel professionismo italiano. Sono un ragazzo estroverso, cerco di stare bene con tutti, infatti il mio primo obiettivo è quello di cercare di entrare in sintonia subito con i ragazzi per poi fare al meglio il mio lavoro. Hai esordito in Serie A con la Fiorentina a soli 18 anni, come è proseguita poi la tua carriera? L'anno dopo sono andato a Perugia dove ho fatto un altro paio di presenze in Serie A con altre panchine, poi ho cominciato a girare in C1, C2, italiana, sempre nel professionismo fortunatamente, sono andato a Pergocreme, a Varese, finendo con Bassano, Lucchese, quest'anno Casale Calcio. Italiana infatti, mi hai detto, tante esperienze in altre tante società ma tutte in Italia. Che cosa ti aspetti da questa nuova sfida con il Lugano? Ma onestamente è tutto nuovo, devo ancora capire bene il calcio, devo capire bene quali sono le differenze e cercherò di farlo nel più breve tempo possibile perché domenica abbiamo già la prima partita, quindi vorrei cercare di essere della partita, comunque qualsiasi opportunità mi darò al mister, cercherò di sfruttarlo al massimo. Oggi ti sei allenato con gli altri ragazzi e hai fatto il tuo primo allenamento, quali sono le tue impressioni iniziali? Ma un calcio onestamente diverso, sicuramente più fisico, forse meno tattico, però ci sarà da sudare, da lottare tutte le partite.